Lore, posso farvi vedere una cosa prima che cominciamo? Certo. Ti piacesse avere i capelli così il giorno matrimonio? E in questi casi l'uovo faccio miracoli. Io per farmi bello. Sui capelli smitto a merda i cavalli. Puzzano poco, ma li faccio così morbidi. Marta, il signor Gino veniva a casa nostra dove faccia un discorso che io trovo sensato il nobile. Domandavo che piglio per moglie. Questi sono belli notizi. Parroco, parroco per organizzare tutto. Ricordatevi che ho un marito e un capofamiglia. Io gli porto il pane a casa e la sua sudura è come l'acqua benedita. E ora tutti quei come funziona. Vi sposerete e sarai reclusa a Fonte Nuova. Ti spacca la schiena dalla mattina alla sera. Non so se stai io facendo la cosa giusta. Ma che cazzo dici Marta? Perché siamo convinte che siamo noi donne che possiamo fare la differenza. Lei è bianca l'amica che ti dicevo. Hai provato a dartelo a provare. La guerra è finita. Noi siamo rinati. Per chi serve se facevano altre cose come erano prima? Guarda se inventare questa cosa mi fanno votare pure i film. Io a votare ci vai. Non ti posso chiedere giù. E' bellissimo. Tutto bellissimo. Grazie a tutti.